Rivara, per questa splendida serata, ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato, anche quelli che non mi hanno votato, che da domani sono comunque il loro cittadino. Sono contento di aver raggiunto questo risultato con tutta la mia squadra, con gli rivaresi che mi hanno dato fiducia, adesso da domani lavoreremo per tutti i rivaresi e cercheremo di far crescere questo splendido paese.